Ciao ragazzi, un saluto da un peppe del cuore, daglielora! E' tornato il Napoli, dopo è tornata la Serie A, è tornato anche il nonno! Ragazzi, una partita splendida da parte del Napoli, un'ottima partita dopo un primo tempo un po' opaco, perché comunque il Napoli sbaglia molto negli ultimi 30 metri l'ultimo passaggio, e quindi sbaglia un po' troppo, l'ha sottolineato anche Mertens Mertens, ragazzi, ora vi spiego tutto Allora, secondo tempo, il Napoli entra un pochino sbandato poi, Gattuso con la sua testa brillante e io mi rivolgo di nuovo ai detrattori di Gattuso quelli che criticano Gattuso Ragazzi, Gattuso ha la testa brillante toglie DM, tra l'altro ammonito e mette Ozyman, cambiando modulo 4, 2, 3, 1 ti ha portato spettacolo ragazzi, il palo di Insigne, io mi stavo preoccupando ragazzi, ogni volta prendiamo i pali io mi stavo preoccupando ho detto, com'è possibile? non stiamo prendendo un palo? a posto ha preso il palo del Napoli ha preso il palo, ha preso Insigne un tiro a giro bellissimo prima, prima sull'entrata di Ozyman che è stato determinante per il Napoli perché entra poi sul cross di Isai, mi sembra sulla destra Ozyman sposta il difensore del Parma e quindi lo mette fuori causa perché sa che arriva Mertens dietro e la mette dentro 1-0 e poi ragazzi l'esultanza si è vista e comunque si vede che Mertens con Insigne e Lozano che anche oggi grandissima partita Lozano che sta entrando sempre di più nel progetto Napoli nel progetto Gattuso che volevo dirvi è appunto con Insigne con Ozyman Mertens sta creando un grandissimo rapporto Ozyman altrettanto quindi segna il Napoli con Mertens poi la freccia perché oggi è stata una freccia Lozano che recupera palla sulla destra poteva grossarla in mezzo per lo Szyman ma ha preferito essere egoista e tirare alla fine sulla parata di Sepe che fa sempre grandi parate per il Napoli ma ormai col Parma sta diventando un signor portiere dopo che col Napoli comunque non ha giocato praticamente mai ha giocato una sola partita con l'Udinese tre stagioni fa in Coppa Italia fa una bella parata sullo Zano però arriva insigne dietro e la mette dentro praticamente dentro la porta lui e il pallone e sulla ribattuta mette dentro il gol del 2-0 ora il Napoli tatticamente a un certo punto del secondo tempo è stato messo bene da Gattuso bisogna concentrarsi di più perché negli ultimi 7-8 minuti il Napoli ha sofferto il Napoli ha staccato la spina il Napoli deve lavorare su questo su questo fronte c'è stato un episodio dubbio nel primo tempo primo tempo noiosissimo il Napoli non ha fatto un tiro il Napoli non ha fatto un tiro mentre il Farmacy ha tirato il tiro il tiro d'inglese murato che poi è finito nelle mani di Ospina si è beccato il nonno sì sì praticamente il Napoli alla fine non era riuscito a fare un tiro l'unico dio del Napoli ma non nello specchio è stato quello di Fabio Ruiz che l'ha calciata alta Napoli che alla fine è riuscito a segnare con Mertens in signe insomma con le sue certezze sperando poi che queste certezze continuino a segnare perché il Napoli quest'anno deve puntare per forza i primi quattro posti ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commento qua sotto oppure in direct su Instagram e niente forza Napoli sempre ciao 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 ciao